Gentili telespettatori buona giornata, solo dal 2010 ad oggi gli stipendi hanno perso l'8% del potere d'acquisto mentre in Germania dal 2010 ad oggi gli stipendi hanno acquisito il 14% del potere d'acquisto in Italia meno 8, in Germania più 14, capite che uno va in un senso e uno va nell'altro quindi la differenza è sempre più ampia ed è per questo che come vi raccontavo quest'estate ho passato qualche giorno a Rimini e sembrava di essere all'estero, arrivo con la macchina sotto l'hotel e guardo tutte le macchine, erano quasi tutte straniere ha detto ma dove sono finito? Ero a Viserbella di Rimini, sotto l'albergo le macchine erano tutte straniere è perché gli stranieri come vedete negli ultimi anni il loro potere d'acquisto aumenta mentre in Italia diminuisce, quindi gli italiani sempre meno possono andare in vacanza ma neanche a Viserbella mentre gli stranieri che hanno sempre più soldi in tasca possono andare tranquillamente a Rimini a Viserbella a farsi la loro vacanza è triste questa cosa, ma non la si vuole sistemare nessuno in Italia fino a questo momento ha mai messo il salario minimo legale oggi la sinistra sbraita, ma ha avuto un decennio per farlo e non l'ha fatto oggi il Movimento 5 Stelle sbraita, ha avuto 5 anni per farlo al posto che fare il taglio dei parlamentari, che non serve a niente avessero fatto il salario minimo, forse oggi vi starei raccontando una storia diversa i salari reali nel terziario sono crollati, meno 8% dal 2022 ma non dicevi dal 2010? no, dal 2010 in Italia sono scesi dell'8% cioè hanno perso l'8% i salari come potere d'acquisto ma nel terziario sono dal 2022, negli ultimi due anni ma nel commercio i numeri fanno ancora più impatto, meno 15% cioè un commesso, un lavoratore della grande distribuzione del commercio il suo potere d'acquisto ha perso il 15% mentre la produttività del lavoro è più 16,3% quindi quando ci raccontano la storiella di Babbo Natale che ah ma no, 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 no gli stipendi in Italia non possono essere più alti manca la produttività cioè sapete cosa vuol dire? la produttività è il fatturato diviso le ore lavorate me lo ricordo quando ero direttore di un ipermercato e avevo i miei 90-100 dipendenti e passava il capo area e ogni settimana voleva sapere la produttività del punto vendita dell'ipermercato la produttività era il fatturato della settimana diviso le ore lavorate in quella settimana veniva fuori un numero e lui il capo area faceva le sue valutazioni la produttività registra un più 16 e nel commercio gli stipendi reali meno 15 quindi la storiella che ci hanno sempre raccontato che in Italia non si può guadagnare di più perché praticamente gli italiani non lavorano dormono gli italiani dormono non sono produttivi dormono e allora cosa faccio? pago di più uno che dorme? uno che lì col cellulare sul lavoro? ci hanno sempre raccontato la storiella della produttività e adesso vediamo che la produttività più 16 e gli stipendi meno 15 nel commercio quindi non ve la fate più raccontare la storiella della produttività se la sentite ancora rideteci sopra bene cioè bene in modo di dire così con l'aumento della produttività le aziende guadagnano di più perché se tu fai lo stesso lavoro con meno ore vuol dire che stai lavorando più velocemente quindi l'azienda guadagna di più e come? l'azienda guadagna di più e sti soldi non si possono dare ai lavoratori? no rimangono e vengono divisi tra i proprietari e gli azionisti i soci quindi i soci si riempiono le tasche e il lavoratore non ha i soldi per mangiare meno 15% gli stipendi nel commercio quindi la storiella che vi hanno raccontato fino adesso che se metti un salario minimo le aziende falliscono perché poi e come fai poveracce gli metti il salario minimo e le distruggi invece le aziende hanno sempre più soldi e il lavoratore è sempre più magro perché non sa come mangiare però ci raccontano la storiella la produttività e questi mi dormono e io devo pagarli di più invece non dormono la produttività aumenta del 16% quindi lavorano di più però mangiano di meno e l'azienda si riempie di soldi non lo dico io non lo dico io sono i dati questi perché molti spesso pensano che io mi inventi le cose non me le invento non me le invento questi sono i dati usciti oggi sul Corriere della Sera nella sezione Economia del Corriere della Sera Corriere Lavoro eh stipendi crollo del potere d'acquisto in Italia dal 2010 sono scesi dell'8% in Germania sono saliti del 14% eh eh quindi questo è il dato i salari nominali medi in Italia si posizionano al penultimo posto rispetto agli altri otto paesi considerati che si muovono in un range tra 41.000 e 62.000 euro i paesi sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Spagna, Svezia sono i primi paesi europei per economia tra cui c'è l'Italia quindi ehm siamo al settimo posto su otto siamo arriviamo penultimi quasi peggiori adesso non ho più tempo mi sarebbe piaciuto ma questo di questo si può parlare per un'ora grazie a tutti e arrivederci a presto